La Pro Casamicciola ha festeggiato i suoi primi 40 anni. L'associazione, nata per la promozione del tempo libero tra i giovani della cittadina termale, è tra le più longeve della provincia di Napoli ed è annoverata tra le prime cento nell'ambito delle Proloco d'Italia. I soci vecchi e nuovi, dai fondatori ai più recenti, si sono ritrovati domenica mattina nei locali del Capriccio in Piazza Marina per uno scambio di auguri, per un ricordo dei soci che non ci sono più e per fare il punto delle iniziative in corso. Dal servizio civile che proseguirà garantendo la copertura dell'ufficio informazioni alla ripresa del premio Ciro Coppola dopo due anni di stop. Il premio che riprende con un nuovo coordinatore della giuria tecnica, la professoressa Franca Di Meglio che prende il posto del compianto Giovanni Castagna, recentemente scomparso. Durante il corso della cerimonia dai toni molto essenziali sono stati consegnati gli attestati ai nuovi soci onorari voluti dalla stessa associazione, giurati del premio, amici, i mass media, tra cui la nostra emittente. Il presidente Andrea Di Massa ha voluto raccontare brevemente i momenti esalenti della storia dell'associazione fino ad arrivare alla storia recente tra difficoltà economiche e ringraziamenti all'amministrazione comunale per il contributo garantito per il premio di poesia e per i tanti che negli anni hanno voluto devolvere il 5 per mille al sodalizio. Al termine la cerimonia nella cerimonia. Il sindaco di Casamicciola, Giovanni Battista Castagna, ha consegnato il certificato della civica benemerenza conferita alla Pro Casamicciola dall'amministrazione con una apposita delibera di giunta di recente adozione. 40 anni di attività ben spesi per la comunità e in collaborazione con l'amministrazione di Casamicciola anche per l'organizzazione degli eventi di questo Natale, ha sottolineato il sindaco Castagna con l'auspicio di altrettanti anni di vita sempre con lo stesso spirito. Ed al termine, come ormai tradizione pluridecennale, la foto di gruppo che mortala l'attimo per arricchire il già nutrito archivio dell'associazione.